buonasera a tutti e bentrovati alle rubriche del cinema della batcaverna presso il canale youtube sono stato accalabbiato non era previsto niente diciamo che la verità è proprio questa ti ho rotto i maroni e ti ho placcato perché perché il sor mauretto da buon intenditor di cinema quindi poche parole molte molte poche parole è qui per raccontarci la visione ah vabbè qua siamo su allegorie alti livelli la visione del film degli emangers age of ultron che io ho visto in anteprima anche se ormai però è uscito normalmente insomma cosa ci dici di questo film innanzitutto come l'hai trovato rispetto al primo facciamo subito un raffrontino veloce veloce allora io faccio un piccolissimo background della mia visione del primo film perché magari non tutti mi seguono su segno cinema diciamo sulle rubriche di cinema che di solito curo sul cartaceo perché non scrivo di cinema sul web io sono molto deluso dal primo episodio sia da fan dei comics ma anche proprio da estimatore del cinema cioè non ci vedevo il cinema sembrava un enorme telefilm che doveva coniugare che aveva soltanto il dovere di coniugare tutti i film che erano stati di vari pezzi che erano stati girati precedentemente e devo dire che mancava fortemente l'epica dei singoli personaggi così come dell'epica dei rapporti tra di loro e l'epica del gruppo cioè si vedeva era tanto un film di coniugazione di tutto e aveva Loki come nemico che secondo me era proprio debole era gestito in maniera molto debole in quanto era molto parodistico tutto quanto era molto parodistico in effetti chi senti senti tra virgolette la maggior parte delle persone quando gli chiedi del primo film si ricordano solo quelle due battute del cazzotto sì sì di Hulk oppure quella cosa di Loki che viene randellato cioè fondamentalmente io sono uno a cui l'ironia nei film mi dispiace però in quel caso come avevo già detto anche quando abbiamo parlato di Guardia della Galassia mi sembrava un'ironia mal calata nel contesto dei supereroi sembrava più un'ironia dei Ronnie Tunes un'ironia da Anne Barbera piuttosto che non l'ironia di quello che poteva essere il Superman di Donner o magari l'ironia camp del Batman degli anni 60 che è l'ironia secondo me che serve nei supereroi quindi Avengers e Joe Fulton la mia paura era quella che avrebbe calcato ancora di più queste che erano state le cose che come dicevi tu erano piaciute molto al pubblico in realtà con mia sorpresa non percorre invece quelle strade e punta a fare quello che era effettivamente quello che avrei voluto vedere sin dal primo film il baraccone d'azione con dei rapporti tra dei personaggi gestiti in maniera non buffona non è un film d'autore quindi non aspettiamoci andare a vedere il padrino parte seconda insomma è un film per ragazzi un film per ragazzi che non ti fa sentire stupido mentre lo vedi c'è un film che intrattiene è un film che ha una regia da cinema ha una prima scena che è tutto un piano sequenza quasi depalmiano cioè se depalma avrebbe girato i supereroi forse avrebbe fatto in questa maniera insomma cioè sembra veramente un inizio alla depalma insomma con questo enorme piano sequenza però ovviamente invece di avere Nicolas Cage che scende le scale e parla al telefono qua ci stanno i robot che volano cioè è un disco di differenza di calato però è cinema cioè io ci sento il cinema quindi Joe Swetton che è un regista che ha delle radici televisive fondamentalmente io lo sento cresciuto come autore da un punto di vista prettamente tecnico i personaggi funzionano interagiscono tra di loro in maniera divertente quando è giusto che sia divertente senza mai trovare però offensivo il correlativo cartaceo sono semplificati non sono resi stupidi ok ok beh c'è una notevole differenza insomma è tutto molto semplificato e Ultron ad esempio che è il main villain del film è molto semplificato è anche molto meno potente della controparte cartacea fa meno paura tutto quello che dicono su Ultron è assolutamente vero in questo senso però Ultron è riscritto rispetto al quello insomma che abbiamo visto nei fumetti anche perché Hank Pym non c'è c'è Tony Stark diciamo che è una creazione esatta una nascita una genesi anche diversa c'è Tony Stark e quindi essendo una gemmazione di Tony Stark lui ha un complesso etipico verso Tony Stark e verso Tony Stark dei film che è molto diverso da Tony Stark dei fumetti quindi è calato alla la perfezione in quello che è l'universo cinematografico Marvel non è un buffone però allo stesso tempo non è un Ultron non è un Ultron Terminator insomma non è un personaggio dell'orrore è un super villain ho sentito che molte delle critiche sono legate a Ultron persone invece a me è piaciuto molto in primo luogo dal punto di vista grafico a livello di di rende quindi al livello di caratterizzano è bellissimo perché è metallico ma allo stesso tempo sembra fatto di muscoli che è esattamente quello che io volevo anche vedere un po' su Iron Man perché se noi vediamo come Iron Man era gestito nei fumetti prima del film insomma prima di Eddie Grenov che lo facesse in questa gestione quasi robotica Iron Man anche se indossava un'armatura questa armatura poi addosso a lui immagina come lo disegnava Bob Layton per esempio era un'armatura che si muoveva come se fossero muscoli al cinema chiaramente dovendo avere il contesto un contesto fotorealistico questo non succedeva e Iron Man sembra una torta di robot funzionalissimo nel cinema Ultron che ha invece queste sorte di fasce muscolari fatte di questa sorta di metallo vibranio però il vibranio non esiste quindi se lo so più gestire come pareva ed è bellissimo perché sembra effettivamente una sorta di una stato di Giacomo balla in movimento io l'ho trovato assolutamente una sintesi perfetta di quello che doveva essere Ultron poi che cosa fa Ultron nel film dice è un'intelligenza artificiale potentissima perché fa botte con i Vendicatori invece di far scoppiare al mondo con lo sternuto perché è un supervillain certo se no ci sarebbe mal col film dei Vendicatori non ci sarebbe nemmeno il film è un supervillain come sappiamo nella serie di Batman degli anni 60 i cattivi riuscivano sempre a catturare Batman lo mettevano in delle situazioni asturde e poi se ne andavano ritacchiando così che Batman si poteva liberare è il gioco tra i supereroi super criminali altrimenti andiamo a il terminator che è un'altra cosa insomma cioè nel senso a me è piaciuta questa cosa che lui è anche un po' bambino nel suo giocare con i buoni piccola parentesi hai visto il trailer del terminator nuovo? sì ho visto il trailer del terminator nuovo e graficamente sembra bruttissimo cioè a livello proprio di estetica sembra brutto c'è quel tentativo di rifare Cameron utilizzando i mascherini blu che insomma lo trovo interessante graficamente sembra un po' raffazzonato però potrebbe anche non essere poi la versione finale quindi io di quello mi aspetto di vedere il film insomma senti mi fa sempre molto piacere vederti recensire positivamente perché insomma ti ho visto sempre molto severo nei confronti dei cinecomic esatto e secondo te c'è la possibilità di un ulteriore step di progredire in una direzione che non sia magari solo commerciale anche se questi film vivono di mercato sì sì ma per carità essere commerciali e commerciabili non è un male cioè per dire uno dei miei film tratto di fumetti preferiti è Batman e Tim Burton fu un grandissimo successo commerciale il secondo che è forse il mio film di supereroi preferito in assoluto magari non lo è stato e quindi capire quello che vuoi il pubblico è sempre molto difficile io credo che adesso siamo in un momento in cui i film di supereroi hanno perso un progetto hanno perso il progetto non ce l'hanno più sono uno diverso all'altro mentre magari ai tempi dei primi Marvel Studios Iron Man, Iron Man 2, Thor, Capitan America sembravano effettivamente tutti una sorta di tv series dove Kenneth Branagh o John Favre poco cambiava perché il tipo di regia era uniformata adesso mi sembra che questa sorta di grosso progetto non ce l'hanno più da una parte c'è la Fox che porta avanti i mutanti e i Fantastici 4 cercando di non perdere i diritti e quindi verso la Disney, Marvel e quindi gestendoli in una tipologia diversa, più Cuba dall'altra abbiamo a DC, c'ha fondamentalmente il grosso strascico di Christopher Nolan e quindi di cercare di gestire i fan di Nolan e in più i Marvel Studios sembrava che avessero appunto un progetto però Guardiani della Galassia abbiamo detto che era proprio un film stand alone che funzionava alla grande perché non si collegava artisticamente a nulla Avengers 2 continua secondo me questo trend facendo un film libero quasi alla Michael Bay cioè nel senso che punta sull'azione, sull'epica eccetera quindi mi sembra che non c'è più questo progetto e che è interessante perché vuol dire che Hollywood comincia a pensare che i fan dei fumetti non sono più un unico blob che pensano tutti uguali mi piacerebbe che, lo step che piacerebbe a me è quello che Hollywood iniziasse a pensare ai film come singole unità artistiche un po' come capitava quando Sam Raimi dirigeva Spider-Man Nolan dirigeva Batman, cioè era la visione dei singoli autori io preferirei che l'autore venisse innalzato rispetto non alla grande produzione quando ci stanno 250 milioni di budget di mezzo è difficile che questa cosa venga gestita però appunto Sam Raimi, Tim Burton, Richard Donner ci hanno dimostrato che fondamentalmente si può fare il film dei fumetti d'autore con i grandi budget e piacere alle platee secondo me lo step successivo è questo preoccuparsi meno possibile delle tifoserie che è quello che sta succedendo adesso se mi piace la Disney non mi piace la Marvel se mi piace la Marvel della Disney non mi piace quell'altro cercare di capire quando il film è buono come film questo Age of Ultron è proprio con questo esempio perché se cominciamo a fare le pulci con i fumetti no certo, non funziona ma nemmeno i fumetti ormai sono fedeli a loro stessi con tutti i vari reputti quindi questo bisogna vederlo come un ulteriore Ultime un ulteriore 2099 e questa qua è l'universo cinematografico Marvel se i personaggi sono gestiti in maniera interessante e intelligente all'interno perché no, se no ci rileggiamo i fumetti che abbiamo a casa e questa mossa della Disney di riportare in casa Spider-Man allora i Spider-Man post-Rainy erano a mio avviso un disastro perché non avevano un progetto cercavano di fare quello che Nolan aveva fatto con Batman sull'uomo ragno quindi quelli erano Spider-Man Begins fondamentalmente e quell'approccio con l'uomo ragno non funzionava a mio avviso l'uomo ragno era stato catturato da Raimi in maniera assolutamente perfetta in tre film che ognuno di essi catturava per lo spirito del decennio cioè il primo film era uno Spider-Man degli anni 60 il secondo era uno Spider-Man degli anni 70 il terzo era uno Spider-Man degli anni 80 perfetto, ogni film era una sintesi a mezzo in Spider-Man era un mischione c'era un po' dell'Ultimate c'era però Gwen Stacy che avevano gli anni 60 tagliavano alcuni personaggi, Goblin era un po' con diverse scelte discutibili sia registicamente che a livello di storia è una regia assolutamente inesistente dal punto di vista artistico cioè si passava da Sam Raimi che è uno che il cinema ce l'ha cioè che la celluloide ce l'ha nelle vene se gli si fa una iniezione esce fuori veramente la celluloide a Mark Webb che fondamentalmente era un registino che faceva una cosa da regia da un posto al sole effettivamente con tutti magari anche le critiche che sono state mosse a Raimi forse evidentemente la differenza è stata sottolineata proprio bene da te Raimi interessava al cinema esatto e amava Spider-Man il resto era piattume cioè perché se abbiamo un saniscendi di emozioni con Raimi che possono essere anche molto contrastanti lo Spider-Man successivo non le dà effettivamente non le dà proprio perché non riusciva a bilanciare quello che poi era fantastico il Raimi e che era lo Spider-Man di Stan Lee e Dick Coy ma soprattutto di Stan Lee e Romita che era questo bilanciare un continuo tra le scene d'azione e le scene di dramma erano perfettamente Peter Parker soffriva per tutto ciò che accadeva all'uomo ragno l'uomo ragno scaturiva quello che poi succedeva a Peter Parker cioè era perfetto mentre anche registicamente quello di Mark Webb non riusciva a coniugare queste due cose c'era una regia da Sundance Festival o da Un Posto al Sole veramente che a un certo punto diventava un videogioco dell'Activision con Spider-Man che fondamentalmente utilizzava gli stessi software di Raimi quindi a un certo punto c'era lo Spider-Man di Raimi solo un pochino più magro e poi al momento invece dei discorsi con Gwen Stacy sembrava di trovarsi di fronte a qualcosa che forse nel carriamo di supereroi somigliava più a una puntata di Smallville quindi era un po' un casino questo uomo ragno post Raimi quello che vuole farne la Disney inserendolo nell'universo cinematografico Marvel su Civil War può essere interessante perché poi Civil War l'uomo ragno ha questo rapporto che è il personaggio che passa da una fazione all'altra quindi magari dovrebbe essere funzionale sì con Capitan America Iron Man come sorta di doppio padre buttativo potrebbe essere potrebbe essere sì magari sicuramente non ci vuole poco a farne meglio di quello che ha fatto Webb prima di chiederti un voto stringato sul secondo capitolo degli Hemingers un'altra curiosità che mi viene lo so invece se hai visto non so se era un teaser oppure un trailer forse più un trailer del secondo Superman ah sì di Batman vs Superman Dawn of Justice allora io sono stato molto critico su Man of Steel io purtroppo su Superman riesco a essere meno freddo che su altri personaggi perché è il mio personaggio preferito assoluto quindi su Superman un pochino mi distacco con difficoltà però a Man of Steel c'era un problema a livello proprio cinematografico con tutto che Zack Snyder secondo me è stato uno dei registi contemporanei che meglio ha saputo capire il fumetto da un punto di vista grafico Watchmen su questo non c'è partita cioè la cinepresa cattura il fotogramma però noi sappiamo che tra graphic novel e fumetto direct sales cioè fumetto Superman è un fumetto non è una ci sono graphic novels su Superman però lui voleva ritirare fuori il mito di Superman e secondo me aveva sbagliato molte cose forse anche perché veniva da parecchi insuccessi commerciali e doveva appiattirsi su quello che invece funzionava che era il Batman di Christopher Nolan Christopher Nolan era produttore non ricordo seppure sceneggiatore del film tra lui no Goyer era sceneggiatore e Goyer che fondamentalmente era sceneggiatore anche di Batman di Nolan quindi mi sembrava un Superman che doveva pagare il dazio doganale al Batman di Christopher Nolan e le cose che funzionavano nel Batman di Christopher Nolan su Superman non hanno funzionato da un punto di vista cromatico non funziona non funziona da un punto di vista proprio di relazione empatica col personaggio quindi meno stile secondo me è stato un disastro questo Batman vs Superman vede l'abbandono completo di Christopher Nolan dalla produzione quindi se la Warner ha dato un po' più di spago a Snyder e a farlo più simile a Watchmen con le dovute differenze stiamo sempre parlando di un film su personaggi più commerciali più commerciabili che non Watchmen che non hanno l'opera d'arte cioè che non hanno un'opera di totte pagine perché qui sono Batman e Superman che si trovano le gare è chiaro da quello che è stato di quello che si dice nel trailer che lui si punterà su Dark Knight di Miller emerge in maniera abbastanza forte questa immagine che Batman per combattere Superman utilizzerà l'armatura che abbiamo visto nel ritorno del carico oscuro di Miller la mia unica preoccupazione te lo dico sinceramente è soltanto questa che visto che Batman è un personaggio che piace molto e che fa incassare tanti soldi e Superman invece al grande pubblico pubblico contemporaneo non piace così tanto non è mai entrato si nei cuori ho paura che il film sia un wrestling match pro Batman in fondo stanno puntando anche a livello di novità Superman è lo stesso di Man of Steel abbiamo un nuovo attore di Batman un nuovo costume per Batman un nuovo Batmobile un nuovo Alfred quindi l'attenzione è tutta incentrata su Batman a livello di diciamo di marketing questo funziona io però spero che il film sia il focus per quanto riguarda il film io ho paura che sia troppo Batman oriented troppo Batman oriented poi insomma a tutti piace questa cosa che Batman anche senza avere i superpoteri degli altri supereroi riesce a gestire anche i personaggi situazioni più complicate con supereroi io temo temo che Batman stia diventando il Chuck Norris dell'universo DC ma una simpatica osservazione no anche un po' questa cosa perché because I'm Batman cioè sta diventando un po' un meme e che la prima volta fa ridere la seconda sorride la terza volta ha rotto le scatole e quindi sinceramente visto che il film sarà a quanto pare epico serioso il trailer fa sembrare insomma una cosa è io spero ovviamente che non sia vogliamo che Superman se ne vada a casa e Batman che lo prende a calci nel serie rispetto verso Superman allora con questo augurio chiudiamo le digressioni con Mauretto ritorniamo a bomba per poi chiudere questo specialone allora se proprio non vuoi darmi un voto secco allora te la pongo in questo modo nella tua esatto ovviamente nella tua graduatoria filmica se non andiamo a scendere troppo in giù dove lo collochi allora facciamo Avengers Reggio Ultron lo mettiamo in correlazione soltanto a tutti gli altri Marvel Studios va bene lasciamo fuori il resto perché è inutile che io ti dico che è inferiore a tutto quello che ti ho citato di Spider-Man di Reign Batman e Tim Burton rimaniamo in questa produzione marvelliana per tutto ciò che riguarda i prodotti Marvel nel progetto Marvel Studios cioè tutto ciò che va da Iron Man a oggi sotto le guardatiste il migliore in assoluto attenzione proprio in cima al classificone in cima alla classifica che stacca questo non l'avrei mai detto stacca di poco i guardiani che mi era piaciuto tanto però per motivi differenti nel senso i guardiani me lo sono goduto è un film che mi piace vedere e rivedere ma non ci sento i supereroi perché non è un film di supereroi è un grandissimo grandissima space opera divertente che mi riporta ai tempi dei Goonies di Ritorno al Futuro come tipologia di spirito anche per quelle varie citazioni un po' paravente che dicevamo invece io su Avengers Age of Ultron ci sento i supereroi attenzione quindi del progetto Marvel Studios secondo me anche se c'è da dire il progetto Marvel Studios non si freggia di livelli cinematografici altissimi è una vittoria in un discorso ma contestualizzata contestualizzata basta allargare la cosa che chiaramente potrebbe essere più debole rispetto appunto al cinema d'autore anche quei supereroi però riguardo tutto quello che ha fatto la Disney con la Marvel lo metto in cima la classifica attenzione e con il parere illustrissimo del dottor Mauretto i dottori poi sono tu sempre cattivi nei fumetti è cattivissimo perché lui insomma ha la doppia tripla quadrupla anche nonupla personalità voi lo vedete qui tranquillo vicino a me ma qua c'è un altro come spegniamo la telecamera qua c'è un altro con la barba con la spazio ok il nostro uomo multiplo conosciuto anche come Mantomex poi magari mettiamo tutto quanto nei credits nelle descrizioni eccetera eccetera i riferimenti per dove trovarlo internetianamente e non noi vi ringraziamo vi salutiamo vi invitiamo anche a scrivere i vostri i vostri pareri a commentare e fare questo questo confrontino con noi e per chi non l'ha visto speriamo possa essere stata utile questa recensione free spoiler free spoiler e invogliarvi e andarlo a vedere al cinema rock and roll rock and roll peace e andarlo a vedere